Dopo l'allestimento del cantiere e i primi interventi preliminari, sono partiti i lavori per la rimozione del tetto in amianto del mercato del Carmine. La copertura, ormai vecchia ma che fortunatamente non si è degradata, verrà completamente tolta e sostituita da un nuovo tetto in lastre di alluminio verniciato di colore grigio. Le operazioni per la rimozione in sicurezza del tetto sono state concordate in un incontro preliminare tra i tecnici del comune, della ASL, la ditta Lomcer che è titolare dell'appalto di ristrutturazione e la Moveco, impresa specializzata che eseguirà in loco la rimozione delle lastre di amianto. I lavori di bonifica del tetto del mercato richiederanno da due a tre giorni. Durante tutte le fasi la ASL effettuerà dei monitoraggi dell'area della zona circostante il cantiere al fine di garantire la massima sicurezza dell'intervento. Per la ristrutturazione del mercato del Carmine promossa dal comune, la fondazione Cassa di Risparmi ha stanziato 3 milioni di euro.